Bagno di umanità. Accompagno all'urdo a Suntina, poliomelitica in carrozzella e a Cessa Tifossa della Roma. In treno ha portato i carciofi alla Romana cucinati da lei che distribuisce a tutti. Come sono buoni! Al ritorno le chiedo se ha bisogno di qualcosa prima di lasciarci e lei mi dice, sì, mi compri in edicola il romanista? Commento. Molti, diverse volte l'anno, fanno questo volontariato, questo bagno di umanità. Perché? Perché glielo suggerisce l'evoluzione raggiunta.